Sì, diciamo che sono stati bravi, è andato tutto bene. Quello che mi piace sottolineare è proprio la complessità, ma anche il fatto che sia stata un'attività totalizzante. Cioè è emerso un perfetto controllo del territorio, quello che era stato sensibilizzato e voluto anche in sede di comitato su input della prefettura. E poi uno slancio che i carabinieri hanno avuto nel momento in cui hanno arrestato il killer al capo il giorno dell'omicidio. E a tutto questo si è associata poi un'attività investigativa mirata, diretta e immediata. E poi la perfetta sinergia con la procura che ha portato proprio in pochissimo tempo all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita nelle prime ore del mattino e ha assicurato alla giustizia anche il complice con un reato di concorso proprio in omicidio. Allora, il movente va sicuramente approfondito. Si parla insomma di un dissidio dovuto alla gestione di forme illegali da parte appunto sia della famiglia della vittima che della famiglia del killer. Quindi da queste attività emerge sicuramente una partecipazione corale di quelli che sono gli assetti familiari di entrambi gli attori di questa vicenda. Tanto che il complice è addirittura lo zio del killer, cioè il fratello della moglie. Ecco, bisogna vedere cosa le ulteriori attività fanno emergere per definire compiutamente quale possa essere il movente di un gesto così cruento.